Innovative e tecnologiche. Le imprese del mezzogiorno vincono la sfida con il resto del paese quando si parla di bioeconomia. Il 23,6% delle aziende del sud utilizza risorse biologiche nelle proprie produzioni, nel resto del paese ci si ferma al 19,7%. Per quanto riguarda il bio, il mezzogiorno ha dunque una marcia in più. Può essere una grande opportunità l'economia circolare per trasformare finalmente una terra di consumo in una terra di produzioni. Dall'indagine Svimez, Centro Studi Italia Carne, emerge la spiccata sensibilità a investire nel digitale e nella sostenibilità. Si data di imprese molto più attente agli aspetti dell'innovazione digitale, molto più sensibili alla innovazione green e sono anche maggiormente presenti per quanto riguarda l'attenzione alle risorse umane. Il 61% delle imprese bio del sud ha avviato percorsi formativi per i propri dipendenti. Perché la formazione è la chiave di volta nel successo di un prodotto e di un'azienda. Tutto questo si traduce poi in una maggiore produttività, migliore qualità dei prodotti e minori scarti.